a fare il posto a fare il posto ora, questo è un pezzo di risoluzione questo è un pezzo di risoluzione scusa, questo è un pezzo di risoluzione non la faccia più e la faccia più sempre la capo è 56 se non è così ma non è così questo è un pezzo un pezzo una bella russa una bella c'è una bella c'è una bella c'è una bella di magia 3 cosa è che c'è? di f***are una bella una bella la bella ci stai non è che 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 si questo è il questo è il è il questo è il domani domani ti lo vengono tu sicuro no, te lo vengono tu ti tagliano uno te lo vengono dai 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 come come il panino? ottimo non ci fa non ce lo faccio non ce l'ho ma non ci fa non ce l'ho non ce l'ho la mette si, una mette ma che non vuole fare? eh! allora non hai piccato adesso ma non hai più piccato ancora non lo vedete, non lo sentite niente ma non lo vede, non lo vede ma non lo vede, non lo vede ma mi hai messo un bel po', mi hai messo un bel po' ma mi hai messo un bel po', non lo sento ma mi hai chiesto ma non lo senti grazie